L'Italia del dopoguerra vede nel cinema e nell'arte di Walt Disney la possibilità di una vita migliore. Se noi pensiamo che la prima macchina destinata a tutti si chiamava Topolino, ci spieghiamo anche molte cose. Era proprio molto simpatico, si venne a prendere all'ingresso di Disneyland guidando una banda che suonava proprio il motivo di Gersomino dalla strada. Se puoi sognarlo puoi anche farlo. Che non vuol dire rimanere dei bambini, ma vuol dire non dimenticarsi di esserlo stati. Walt Disney ha realizzato il suo sogno, il suo sogno era di diventare Walt Disney.